Antonella Fiordelisi, clamorosamente eliminata dal grande fratello Vip, si consola tra le braccia di Edoardo Donnamaria. La 24enne sognava la finale, ma non tutti è andato secondo i suoi piani. L'unica certezza resta l'amore, quello per il 28enne romano eliminato qualche settimana fa dal reality. Una coppia attormentata che ha diviso e fatto sognare. Adesso sono libere di viversi senza telecamere e scopriranno cosa gli riserva il futuro. Guardate chi c'è qua ragazzi, ci siamo, bacio grandi!